Ciao bambini, come state? Eccoci nuovamente con il nostro appuntamento settimanale con la musica. Questo è l'ultimo video con la musica perché andiamo in vacanza. Questo video, se vi ricordate, quando era il giorno della nostra musica in salone, è la danza delle ciliegie. Vi ricordate quando ci mettevamo tutti in cerchio a ballare questa danza meravigliosa? Bene, ve la propongo come ultimo saluto, come ultimo video e buone vacanze, divertitevi, giocate e sperando di rivederci a settembre. Un grossissimo abbraccio, un bacio ai vostri genitori, nonni, fratelline, sorelline e tutti quanti. Vi voglio bene, vi porterò sempre nel mio cuore. Ciao, un bacio. Divertitevi con la danza delle ciliegie. Quando è il tempo delle ciliegie, le ciliegie si va a raccogliere, si va a raccogliere col panierino, questo è il frutto del mio giardino. La sottana lunga lunga, la cintura stretta, 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 una scatina, punta, punta, spannerò con te, spannerò con te. Quando è il tempo delle ciliegie, le ciliegie si va a raccogliere, si va a raccogliere col panierino, Questo è il frutto del mio giardino La sottana lunga lunga La cintura stretta stretta La scartina punta punta Ballerò con te, ballerò con te La sottana lunga lunga La cintura stretta stretta La scartina punta punta Ballerò con te, ballerò con te La sottana lunga lunga La cintura stretta stretta La scartina punta punta Ballerò con te, ballerò con te Quando il tempo delle ciliegie Le ciliegie si va a raccogliere Si va a raccogliere col pane e vino Questo è il frutto del mio giardino La sottana lunga lunga La cintura stretta stretta La scartina punta punta Ballerò con te, ballerò con te